Ogni mattina, in qualsiasi parte del mondo, ogni giorno dell'anno. Ci sono persone che condividono con te le stesse preoccupazioni e le stesse sfide. Per avere colture che crescano meglio, più sane e con rese maggiori, insieme miglioriamo. Ti accompagniamo ogni giorno e insieme a te cerchiamo il modo migliore per trarre il meglio dalle nostre coltivazioni, il nostro business e il nostro futuro. Noi di Deruider continuiamo ad innovare ed evolvere la nostra offerta di portaennesti di pomodoro per garantirti la migliore soluzione per ogni situazione che possa verificarsi in campo. Ciclo di coltivazione, tipo di serra, qualità dell'acqua, produzione, vigore necessario, qualità, dimensione del frutto, problemi di nematodi nel suolo. Dopo anni di ricerca e test molto rigorosi in campo e in laboratorio, abbiamo lanciato una nuova generazione di portaennesti per coprire tutte le condizioni che possono verificarsi in una serra di pomodori. Deruider vanta anche un team di professionisti del settore che possono aiutarti a ottenere il massimo dal tuo raccolto, il massimo dalla tua attività. Questa nuova generazione di portaennesti comprende Dinafort, Kratofort, Optifort, Maxifort, che completano la gamma. Più protezione, più produzione, più qualità, più soddisfazione per i nostri agricoltori e i consumatori. Questo è e sarà il nostro impegno per offrirti le varietà del futuro e continuare al tuo fianco. Continuiamo a lavorare insieme e a dialogare. Deruider, quando arte e scienza si incontrano. Grazie. 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 Grazie.